Meno 700 lavoratori negli ultimi tre anni, su un totale di circa 60.000 occupati nel settore del commercio nell'area metropolitana pescarese. Sono i numeri preoccupanti che raccontano la crisi di un comparto fortemente penalizzato anche dagli ultimi due anni di pandemia, che ha fatto abbassare numerose saracinesche. Occorre investire la politica per arrivare a una legge quadro sul commercio in Abruzzo che tuteli chi perde il posto di lavoro, dichiara Alberto Stampone della Segreteria regionale della Wiltux Abruzzo. Va sempre peggio, abbiamo capito ormai che la formula dei grandi centri commerciali ormai è fallita, si torna in spazi ridotti ed è normale purtroppo che in quegli spazi poi si perdano posti di lavoro. 700 solo nell'area metropolitana persi, bisogna capire adesso come intervenire. Pronte ad affrontare le nuove vertenze legate ai marchi commerciali internazionali e alla grande distribuzione organizzata, Fisaskat, Cisla, Abruzzo e Molise e Wiltux Abruzzo hanno tracciato il quadro dell'attuale situazione, a cominciare dal caso recente del punto vendita Conad di via del circuito di Pescara, finito sotto riflettori per la famigerata storia dell'assorbente dimenticato in bagno. Un danno d'immagine per lo stesso marchio Conad che oggi punta a riportare la serenità tra i lavoratori dei punti vendita attualmente riacquisiti da una nuova società, come spiega Davide Frigelli, segretario generale della Fisaskat, Cisla, Abruzzo e Molise. Caso Conad siamo riusciti a ottenere un passaggio dell'interesse all'occupazione dalla società Acron SRL a quella che è Omega SRL. I lavoratori quindi mantengono le stesse e medesime condizioni contrattuali che avevano precedentemente. Ci sono novità sul punto vendita di Tiburtina, anche piacevoli perché c'è un'autoimprenditorialità, quindi i nuovi soci del punto vendita di Tiburtina, appartenente anch'esso a Acron SRL, saranno dei lavoratori interni. Per quanto concerne l'Acron avevamo già fatto precedentemente numerose vertenze. Ci è stata ribadita ieri in assemblea con i lavoratori della ex Acron via del circuito e il fatto che ci sono numerose discresie contrattuali, quindi fattori retributivi dove i lavoratori sono stati privati di livelli e di ore non pagate, non remunerate. Quindi procederemo, spero al più presto e copiosamente con i lavoratori, con i fattori vertenziali per restituire ciò che era dovuto a loro. E se da una parte si può esultare per la sentenza di riammissione del lavoratore migro licenziato per aver rifiutato il trasferimento a Catania nonostante il suo ruolo di rappresentante sindacale aziendale e per la scelta del marchio H&M di preservare il personale del punto vendita di Pescara Centro, che dal 14 giugno sarà trasferito all'interno del centro commerciale di Città Sant'Angelo, resta ora ad affrontare una nuova possibile vertenza che si profila all'orizzonte, con la recentissima notizia dell'acquisizione del marchio Combipel da parte di una multinazionale canadese. Già se ne stanno occupando le segreterie nazionali, ha già dichiarato che farà il possibile per preservare l'interesse occupazionale, ma probabilmente tutta non sarà possibile e quindi saremo già a breve in pista per cercare di verificare, di preservare quella che è l'intero pacco risorso umano.